Ciao Eder, un saluto a te e anche agli utenti del tuo canale. Io farò un breve intervento, volevo parlare di un elemento nuovo rispetto alla vicenda di Viviana e di Joelle e in particolare di una foto di Joelle che mi ha colpito, una foto pubblicata recentemente. E mi ha colpito perché il bambino in questa foto ha una strana e forzata postura. Non solo questo, ma anche l'ambiente di quella foto mi sembrava familiare. E poi comunque andando un attimo ad approfondire, ho comunque riscontrato che questo luogo è lo stesso in cui è stata scattata la foto di Joelle con quella persona molto simile a Viviana. Quindi questo mi dà ulteriore conferma che il bambino effettivamente era vivo quando è stato avvistato ai giardini Naxos ed era tra i giardini Naxos e Messina perché il luogo della foto è appunto Messina. Mi sembrava importante dirlo perché questo è un elemento oggettivo che andrebbe valutato da chi è di competenza. E oltre a questo volevo anche parlare di un altro dettaglio per quanto riguarda l'aggressione che ha avuto Viviana perché secondo me non è stata una cosa premeditata, è stato un confronto che poi è degenerato e in questo proprio litigio io vedo anche una donna, una donna mora, la vedo di spalle. Questa donna ha un cane, siccome però questa è una percezione extrasensoriale e possono essere anche extratemporali, non so se questa donna effettivamente fosse presente all'aggressione però fatto sta che c'entra con la morte di Viviana perché è come se le fosse stato dato una sorta di appuntamento a Viviana e lei aveva capito che comunque queste persone la volevano uccidere e cerca di scappare ma nel mentre la macchina la prende dal lato sinistro, lei cade sul parabrezza di questa macchina e viene picchiata e secondo me abbastonata e poi scatta comunque il piano diversivo, no? questo è fatto da una persona comunque lucida per cui viene portata in un posto sotto acqua corrente fredda io sento l'acqua che scorre è come se l'acqua le cadesse, non so come spiegarvi, le cadesse dalla testa in giù quando vi mettete sotto la doccia, sul diffusore che è fisso io sento la stessa cosa ed è stata tenuta lì fino al momento in cui il piano era pronto ecco, questo secondo me è andata così so che magari voi, alcuni di voi resteranno scandalizzati o quantomeno non crederanno questa mia ipotesi però io non vedo altro motivo per organizzare questo incidente se non quello che Viviana fosse già morta questo è l'unico motivo che io ritengo valido si è parlato anche ultimamente di cercare, di spiegare tutto quello che è successo in maniera scientifica e si potrebbe benissimo fare perché comunque ci sono delle reparti speciali della pulizia e dei carabinieri che comunque analizzano foto e video e quindi non so perché non si potrebbe fare e anche tutte le anomalie che abbiamo riscontrato in tutti questi mesi sono dati oggettivi messi insieme uno dietro l'altro potrebbero comporre il quadro abbastanza attendibile anche riguardo alla saponificazione cioè è un dato scientifico, chimico e in quanto tempo avviene? sicuramente non avviene in 12 ore ma avviene in più tempo ecco perché dico che lei è stata tenuta sotto acqua corrente fredda perché poi l'impatto con la temperatura elevata di quei giorni è stata devastante e quindi si è ricercata la verità fin dall'inizio come se, non so come dirvi come chi doveva ricercare ha occultato io sono abbastanza abbastanza basita abbastanza anche disgustata da tutto quello che è successo e che sta ancora succedendo io spero che veramente si cerchi la verità in maniera oggettiva in maniera imparziale e ognuno di noi chi più chi meno anche Riccardo è il lavoro straordinario che tu stesso Eder hai fatto in questi mesi prova che questo caso comunque c'è stato a cuore dal primo momento a me particolarmente per ora per me è tutto io vi seguo anche se non intervengo vi seguo per quello che mi è possibile che mi è possibile e io